Dobbiamo partire dalla tua partita Andrea perché intanto non era una partita come le altre, giocavi davanti al tuo pubblico, alla tua gente, alla gente della tua regione e poi hai questa grande capacità di farti trovare pronto, giochi assieme ad un grande portiere come Domenico Ebner ma hai questa capacità di farti trovare pronto, di rispondere sempre presente in azzurro e questa è una grande dote. Sì, sono contentissimo più che della mia prestazione, della partita che abbiamo fatto tutti quanti e del passaggio del turno davanti al palazzetto di Pescara che è un po' la mia terra d'origine e sono contentissimo di aver fatto una buona partita e di aver aiutato la squadra. Io avevo le cuffie però si sentiva qualche decibel in più quando parava con le luori. Eh sì, si vedeva qualche amico dagli spalti. Intanto arriva un grande risultato perché in termini di squadra ci qualifichiamo a questo ultimo turno e dimostriamo un ulteriore step di crescita, un altro step di crescita. Non era facile andare a vincere in Belgio, non era nemmeno facile poi ripartire da quel più quattro questa sera perché loro erano partiti forti all'inizio della partita col coltello tra i denti, volevano rimetterla in piedi. Voi avete accelerato nell'inizio del secondo tempo. Assolutamente sì, in Belgio abbiamo vinto di quattro ma sappiamo che in Italia la partita sarebbe partita da zero a zero e siamo stati bravi a rimontarla al primo tempo e poi alla fine l'abbiamo staccati e per la panamana italiana penso sia un obiettivo grandissimo arrivare al terzo turno. Adesso c'è il Montenegro, un'avversaria tosta lo sappiamo, ma queste due partite hanno dimostrato che l'Italia ha tutto il diritto di sognare. Si è visto soprattutto quanto si è cresciuta la squadra e siamo convinti che possiamo fare un ottimo terzo turno, daremo tutto quello che possiamo perché sarà l'ultimo prima delle qualificazioni e io sono consapevole che possiamo fare grandi cose con questa squadra. Noi l'aspettavamo tanto un Thomas Bortoli così perché un Thomas Bortoli è un talento cristallino della pallamano italiana e penso che volessi anche tu due partite perché anche quella in Belgio è stata un'eccellente prestazione da parte tua così come queste, con questa presenza in mezzo al campo in attacco hai segnato tanto ma anche in difesa da primo difensore, tanti sfondamenti portati a casa, palle recuperate, insomma l'infortunio ce lo lasciamo alle spalle. Sicuramente sono contentissimo della prestazione che ho fatto, in primis però sono molto contento della prestazione di squadra, quello viene prima di tutto e mi fa molto bene queste due prestazioni, mi fanno molto bene perché arrivo da un infortunio quindi possono essere come un trampolino di lancio, quindi sì sono molto felice e adesso cercherò di andare avanti così. La tua ultima apparizione, la tua ultima presenza era stata in quel pomeriggio amaro, almeno in casa, in quel pomeriggio amaro di Vigevano dove c'eravamo avvicinati tanto a quella Polonia, adesso arrivano queste due vittorie, tre consecutive considerando quella contro la Turchia, sono degli step di crescita importanti. Sì, sicuramente tre vittorie di fila fanno molto bene al movimento, adesso cerchiamo di prolungare questa striscia contro il Montenegro, non sarà facile però daremo il massimo. Ed è una nazionale che ha dimostrato di non avere paura di nessuno, di saper giocare a palla a mano e quindi rivolersela a giocare a viso aperto anche contro una squadra molto forte come il Montenegro. Sì, sicuramente in primis rispettiamo tutte le squadre contro cui andiamo, però entriamo in campo senza la paura, entriamo in campo sapendo di dove dare il 100% ed è questo che ci caratterizza, non molliamo mai, lottiamo fino alla fine e penso che si sia visto in queste due partite. La percezione per chi come noi racconta questa nazionale è che si sia creato in generale a prescindere dal luogo in cui si gioca un legame speciale con il pubblico della palla a mano. Questa nazionale è particolarmente amata, non so se voi percepite lo stesso calore attorno a voi quando si gioca in casa. Sì, sicuramente già dall'ultima che avevo fatto a Vigevano si è visto molto e si vede anche tuttora l'apporto del pubblico. Siamo molto felici di questo, sono l'ottavo uomo in campo possiamo dire e grazie a questo anche siamo spinti per dare il massimo e per arrivare alla vittoria.